Io sono Giorgio Magini, sono di Firenze, faccio il fotografo, sono iscritto alla facoltà di architettura qui a Firenze, è lì che in realtà poi sono stato introdotto un po' al mondo del lavoro e più in particolare su iStockfoto e all'università ho seguito due corsi, ho sostenuto due esami, storia tecnica della fotografia e poi fotografia digitale e questa è una cosa abbastanza simpatica perché a fotografia digitale il professore ci diceva che se volevamo sostenere l'esame di fotografia digitale prima dovevamo essere accettati con le tre fotografie da test su iStockfoto, e così nel 2008 ho iniziato a metterci qualche foto così per scherzo e poi in realtà nel 2010 ho cominciato a metterci tanta roba e da lì è diventato abbastanza, prima qualche entratina, poi uno stipendio, poi ora abbastanza uno stipendio. Ho aperto una mia attività che si chiama fotografiafirenze.it e attraverso questo portale tengo dei corsi di fotografia e foto di tocco, sono certificato Adobe Lightroom e tengo dei corsi di Lightroom in un importante negozio qui di Firenze di fotografia e poi tramite sempre queste associazioni cittadine. Oltre a questo faccio fotografo, quindi mi capita di fare servizi per interni, ristoranti, hotel, band musicali, mi diverto molto. Se vogliamo parlare di iStockfoto e quindi anche di un discorso un po' di vendita, forse il discorso appunto di architettura, città, paesaggi, eccetera, viaggi, forse non sono le cose che vendono di più. Quindi mi sono anche un po' adattato e comunque con molto piacere sto facendo altro e per esempio mi sto dedicando un po' a fotografare persone e stili di vita. Tutto è partito anche volendo su iStockfoto, facendo un po' di girate, no? Quello che mi piaceva fare. Quindi magari girare per Firenze, girare per la Toscana, girare per il mondo e mettere sulle fotografie. E già lì riesci a trovare tantissimi spunti, tantissimi soggetti interessanti che ti piace fotografare e che capisci anche che possono avere un mercato. Dal 2012, da quando ho partecipato all'Istocalypse di Berlino, allora lì vedendo anche appunto come funzionava su iStockfoto per quanto riguarda la vendita di fotografie, di lifestyles, di persone, diciamo forse lì è cambiata un po' la cosa e quindi mi sto dedicando anche a quello. Mi ritengo molto fortunato di aver trovato qualcosa che mi piace molto, mi diverte tantissimo, mi dà tantissimi stimoli ogni giorno. Riesco a fare abbastanza bene e soprattutto anche abbastanza tranquillamente. Secondo me è un ambiente veramente stimolante. Sono molto contento di averlo conosciuto, di esserci dentro. Credo e spero insomma che continuerà a lungo questa esperienza. È bello in iStock perché appunto sei te da solo ma puoi partire. Secondo me la cosa bella anche è che te puoi partire senza essere nessuno, aver titoli, nessuno che ti spinge, nessuno che ti fa la raccomandazione. Te puoi essere anche un, non lo so, per dire qualsiasi lavoro che non c'entra nulla con la fotografia. Lì invece si parla comunque sì, anche se magari inizio sono pochi centesimi, qualcuno ha speso dei soldi per te perché apprezza il tuo lavoro. Non gliene frega nulla se fai il panettieri, il benzinario, il medico o cos'altro. Nel senso io ho iniziato così da studente di architettura e ora il mio lavoro è fare il fotografo. Macchina fotografica, obiettivi e cavalletto. La più alta percentuale delle foto che sono su iStock sono fatte con la 40D che avevo fino a un anno e qualche mese fa, insomma. Non è quello secondo me. Poi naturalmente dipende sempre da che obiettivo vuoi raggiungere, da che livello, a quale livello stai puntando. Comunque 5D Mark II, Canon 24-70, 2.8 mi ci trovo benissimo. Cavalletto, filtro d'instan neutra che ho comprato da una vita ma che non avevo mai utilizzato abbastanza, invece è divertentissimo. Assolutamente si possono fare tantissime cose. E niente, testa, bisogna sempre portarsi tanta testa dietro perché l'importante insomma è usare quella. banale ma assolutamente importante. Molto meglio star fuori a scattare fotografie che stare chiuso in casa davanti a un monitor, no? A perdere tempo appunto a dover risistemare magari i piccoli errori o le carenze o quello che insomma non si è riuscito a fare in camera. Quindi prima di tutto lo scatto. Poi la post-produzione però assolutamente molto molto importante. Anche lì forse non so se sono un po' contro tendenza o così però in generale sì Photoshop ok, no? Insomma c'è un po' anche un po' di moda. Io invece con Lightroom ti dico che mi ci trovo veramente veramente bene. Secondo me è uno strumento veramente fondamentale. chiunque faccia fotografia secondo me dovrebbe, anzi deve usare Adobe Photoshop Lightroom piuttosto Adobe Photoshop solamente a partire dall'archiviazione e per poi arrivare a tutto il discorso del Photoshop post-produzione. Diciamo che vado in Photoshop se c'ho qualcosa da togliere qualche marca, qualche scritta, qualche targa ok? Se no preferisco anche restare solamente su Lightroom tanto lì riesco a fare tutto. altro piuttosto Gemma Grazie per sempre. Guardate tutti. Grazie per sempre. Grazie a tutti.